Cari amici fantallenatori, bentornati da Carmi Special. Come state? Vi state preparando per quest'anno fantacalcistico che rischia di perdere tanti nomi? Con sta rabbia ogni giorno ne esce una di notizia che sa con chi giocheremo. Noi comunque ci accontentiamo perché non siamo legati alla qualità del giocatore, ai gol che farà. Siamo legati al gioco, alla passione per questo fantacalcio anche se dovessimo andare a prendere delle pippe così come sarà praticamente. Comunque andiamo a vedere le analisi di oggi. Ieri abbiamo parlato di quattro squadre di Serie A, abbiamo parlato già delle neopromosse e recuperate in caso le analisi precedenti. Oggi parliamo di Inter, Juventus, Lazio e Lecce perché andiamo in ordine alfabetico. Però ci tenevo pure a ringraziare tutti coloro che oltre ad aver fatto il premium su Fandalab per sbloccare tutti gli strumenti, tra l'altro col codice CARMI o il link in descrizione avete il premium ribassato. E tra l'altro ringrazio anche tutti i complimenti per la piattaforma, per i contenuti eccetera eccetera. Quindi mi fa piacere che mi stia piacendo il tutto. Ma volevo fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che sostengono anche me, Carmelo, Carmi Special. Ok? Perché non è scontato e soprattutto voi sapete che io questo lo faccio per lavoro, non lo faccio più solo per hobby. Lo faccio con passione, quello sì, ma non è semplice. Lo sapete, ho partita IVA quindi sapete bene le difficoltà che si hanno nella mia situazione magari in Italia. E quindi ci tenevo a ringraziare tutti coloro che credono in questo progetto ormai da tanti anni e lo sostengono ad esempio tramite la pagina TV. Ok? Addirittura molti anche stanno facendo il livello Frey, infatti ne stanno rimanendo una trentina. E veramente ci tengo a ringraziare nessuno di voi, veramente mi mando un grosso abbraccio. Grazie mille di cuore. Detto questo passiamo all'analisi e partiamo appunto dall'Inter di Inzaghi. Partiamo chiaramente sempre dall'allenatore. Inzaghi, confermato. Vi ricordate che l'anno scorso era stato messo un po' in discussione? Tanti tifosi interisti avevano pensato appunto a un suo sonero, ma il percorso fatto anche in Champions League chiaramente poi l'ho apportato chiaramente a fare anche una bella figura anche con i tifosi. Chiaramente cosa è cambiato dall'anno scorso? Innanzitutto c'è il discorso punte perché non c'è più Zeko, non c'è neanche Lukaku e probabilmente non ci sarà. Poi parleremo un po' del discorso mercato. È cambiato anche un po' il centrocampo perché non c'è più Brozovic, non c'è più neanche Cagliardini, va bene, ma quello possiamo anche tralasciarlo. In difesa non c'è più Skriniar, anche se non c'è stato granché l'anno scorso, quindi un po' di cosucce sono cambiate la porta. Al momento qui è giustamente stato inserito Di Gennaro perché Onana partirà a breve, cioè nel senso è quasi ufficiale, quindi praticamente al momento c'è il dubbio per la porta. Anche perché ci sono un po' di difficoltà sul calciomercato da questo punto di vista, ne parleremo a breve. Inzaghi, come sfrutta questa rosa? Come ha sfruttato questa rosa l'anno scorso e come la potrebbe sfruttare quest'anno? Credo che a livello tattico non cambieranno tantissime cose, anche perché Lukaku l'anno scorso non è stato molto presente, quindi non è che potrebbero cambiare molto le cose con la sua assenza. Perché cito Lukaku? Perché avere Lukaku o non avere Lukaku a livello tattico di movimenti in attacco cambia tantissimo. Anche cambia il ruolo di Lautaro Martinez, che senza Lukaku magari era lui a riempire molto di più l'aria, a lottare un po' con i difensori talvolta, mentre con la presenza di Lukaku era lui magari a giovare del lavoro che faceva Lukaku. Quindi attenzione a questo discorso. Ma, a prescindere da questo, anche l'assetto del centrocampo potrebbe cambiare. Qui al momento vediamo Cialanoglu, con Frattesi e Barella, poi potrebbe giocare anche Mkhitaryan alternandosi con Frattesi. Frattesi potrebbe talvolta far riposare Barella. Ma, attenzione anche a Sensi, che potrebbe essere una risorsa che, qualora non dovesse infortunarsi, anche quello bisogna considerare, magari potrebbe permettere ad Inzaghi di far ripiatare innanzitutto Cialanoglu, oppure spostare Cialanoglu anche Mevezala, anche se non ha sfigurato nel ruolo di regista. Quindi attenzione a queste dinamiche. La particolarità di Inzaghi, ne parlavamo ieri sera in live, in caso recuperate anche la diretta, è l'utilizzo che fa dei giocatori, perché talvolta lì alterna già al sessantesimo, quindi anticipa un po' i cambi, mettendo un po' in difficoltà... Ah, spero non si sentisse troppo forte il ventilatore, scusate... Mettendo un po' in difficoltà i fantallenatori, o meglio, la formazione magari ogni tanto si la cambia, la stravolge, eccetera. Però in realtà i giocatori che reputa titolari li utilizza titolari. La difficoltà può essere nel ridurre il margine di bonus, nel senso che il gioco di Inzaghi e l'assetto offensivo che all'Inter pompa un po' il potenziale anche di bonus che hanno questi giocatori. Però questo potenziale, per molti giocatori, deve essere leggermente poi ridimensionato di nuovo a causa del minutaggio leggermente inferiore rispetto magari ad una gestione diversa. Cioè un conto è che tu giochi tutti i 90 minuti e quindi hai quei 30 minuti in più, quei 20 minuti in più, se esce ad esempio all'ottantesimo rispetto ad uscire al sessantesimo, settantesimo, ok? Dove quei 20 minuti ti possono fare la differenza? Se è sommati 20 minuti, 20 minuti, 20 minuti tutto l'anno, raga, parliamo di potenziali bonus in meno. Quindi attenzione anche a questo discorso. Cioè quando noi pronostichiamo un possibile rendimento dei giocatori dell'Inter in una stagione, dobbiamo considerare il fatto che l'Inter sia una squadra molto offensiva, che inzaghi li faccia giocare in maniera molto offensiva, ma poi dobbiamo considerare anche che inzaghi spesso li sostituisce, ok? Mi raccomando a questo aspetto. Poi, per quanto riguarda i singoli giocatori, a meglio, prima parliamo un po' del mercato. Chiaramente è probabile che arriverà la punta, ok? Si parla di... come si chiama? Balogun? Balogun? Non mi ricordo il nome nello specifico perché confondo sempre le vocali. Un giocatore che ha fatto bene l'anno scorso in Inghilterra e che potrebbe avere delle caratteristiche simili a quelle di Lukaku. È una punta un po' simile che appunto sa giocare un po' sia a spalle alla porta, quindi potrebbe fare effettivamente quel ruolo, una vera e propria punta e quindi magari de-responsabilizzare Lautaro Martinez da quel ruolo. Inoltre, però la cosa particolare è che lui potrebbe forse integrarsi meglio con Turam, paradossalmente, oppure con Lautaro se fanno quei tipi di movimenti che facevano appunto Lukaku e Lautaro, ad esempio l'anno di Conte, no? Quindi vedremo un po' come li andrà a utilizzare effettivamente Inzaghi, ok? Questo chiaro, una punta, se arriva a una punta comunque abbastanza forte, chiaramente poi scende l'appetibilità un po', soprattutto di Turam. Leggermente quella di Lautaro, ok? Perché se arriva a una punta forte comunque anche Lautaro poi verrà spesso un po' sostituito ogni tanto. Se invece la punta che arriva non è, ok, questo gran nome, non è un giocatore che fa brillare gli occhi poi ad Inzaghi, magari può scendere solo un po' l'appetibilità di Turam, ok? E neanche di tanto. Parliamo velocemente degli altri ruoli in cui l'Inter potrebbe fare mercato. Chiaramente la porta, al momento stanno facendo un po', stanno provando a portare sia Sommer che Truen, però ci sono qualche difficoltà, ma credo verranno superate, o comunque che 1-2 portieri in ogni caso dovrebbero arrivare, ok? Quindi non vi preoccupate, la porta Inter prima dell'inizio del cambiato sarà completata, almeno con un portiere buono, ok? Velocemente parliamo anche del nuovo arrivo, Bissec, che è il mio pupillo, ve l'ho detto anche, cioè il primo nome che ho fatto, raga. Nelle live, l'altro giorno uno mi ha detto, ma non ti sbilanci, a parte che stiamo ancora a 20 luglio, se mi metto a sparacazzate solo perché mi devo sbilanciare, non ne usciamo. Anzi, rischio di fare pure brutte figure. Però non è la paura di fare brutta figura, è il discorso di farvi analisi concrete, ben studiate, basate sulla tattica, sul calciomercato, quindi devo considerare determinati dubbi. Su Bissec però mi sono sbilanciato già settimane fa, dopo che è arrivato, perché l'avevo subito analizzato, e avevo visto un gran potenziale. A me è ricordato un po' il Coulibaly, ve l'ho detto, no? Cioè, quel giocatore che vai subito in anticipo, che spinge. Se andiamo a vedere, come detto, l'abbiamo visto anche ieri sera, la sua hitmap è molto, molto spinta in avanti. Lasciate stare che è sul centro-sinistro, uno può pensare allora ti alternerà con Bastoni, no, perché lui è destro, ma ha saputo giocare anche molto a sinistra lo scorso anno, tant'è che utilizza bene entrambi i piedi, infatti per questo mi piace molto. Inoltre, è anche molto forte sulle palle inattive, è alto 1,96, ha fatto infatti 4 gol anche, raga, questo ci regalerà soddisfazioni. Sarà contento quello che voleva che io mi sbilanciassi, su Bissek, raga, io mi sbilancio. In qualche fantacalcio io lo devo assolutamente prendere. Di sicuro non sarà il fantastorico, perché lì ci sono interisti e quindi probabilmente non me lo faranno prendere, ok? Detto ciò, gli altri giocatori sollecitati quali sono? Gli esterni, assolutamente sollecitati. Gli interni di centrocampo, Barella, Fratesi, si andranno ad inserire, anche perché gli attaccanti svariano oltre che stare in aria. Svariando, permettono l'inserimento dei vari Barella Fratesi. Barella, lo scorso anno, la prima parte si inseriva un po' di più, poi la seconda parte, anche con la presenza magari di Lukaku, cercava un po' invece di allargarsi per servire i compagni. Infatti la sua hitmap si va ad allargare anche per questo motivo, ok? Quindi, mi raccomando, analizzate anche appunto questi giocatori da questo punto di vista e cercate di capire anche la valutazione che potrebbero avere. Io ve lo dico, Barella, Fratesi, se me li lasciano sotto il 7%, quindi al 6% sarebbero degli acquisti clamorosi. Purtroppo in molte altre cose costeranno di più. Poi, come detto, Di Marco sarà il top di difesa, insieme a te Fernandez, a Carlos Augusto, questi giocatori, costerà un botto, ma raga, Di Marco batte pure, punizioni, corner, batte della qualsiasi, spinge molto, ha un tiro fatato, tira tantissimo, 1,48 di tiri a partita, credo sia il primo nel ranking, lo secondo, vedete? Quindi, è un giocatore da avere quando è calcisticamente. Sulla destra ho qualche dubbio, perché c'è Dumfries, c'è anche adesso Quadrado, lasciamo stare il discorso Quadrado, ma c'è anche, eventualmente, pure Darmian, l'anno scorso aveva tolto il posto a Dumfries. Poi Darmian ha dovuto prendere il posto di Skriniar, ok, però se gioca a Bissek fisso dietro, Darmian, oltre che far rifiatare Bissek, potrebbe far rifiatare Dumfries. Però, chiaramente Dumfries avrà un costo un po' più basso, sia per il ballottaggio, sia per, diciamo, la stagione scorsa, che non è stata chissà quanto buona. Passiamo alla Juventus, dai, passiamo alla Juventus e andiamo in crisi, perché la Juventus, ragazzi, ha praticamente la stessa squadra dell'anno scorso con UEA, al posto di Quadrado. Questo è dovuto a che cosa? Al fatto che Giuntoli sia arrivato anche un po' tardi, ok? Sempre puntualissima la Juventus da questo punto di vista. Attenzione, io non sono anti-Juventino, ok? Al massimo anti-Allegri, perché veramente Mimmi sta qui. Quindi sono un tifoso, anzi, sono un tifoso della Juventus, però capite bene che sono il primo a essere critico con la Juventus di Allegri di questi anni. Parliamo velocemente dell'allenatore. Allegri, raga, chiaramente lo sappiamo, solidifica la squadra. Non a caso ci sono cinque stelle di difesa. Per lui è fondamentale la compattezza della squadra, meno la valorizzazione di determinati giocatori offensivi. Anzi, abbiamo visto fare terzini e giocatori che erano ali offensive. E no? I vari di Maria, Coste Cichiesa. Quindi, qual è? Cosa ci possiamo aspettare questa stagione? Qualcosa di simile? Probabilmente sì. L'unica cosa che ne abbiamo parlato qualche giorno fa nel video sulle previsioni dell'asta è che i prezzi dei giocatori della Juventus avranno un rincaro per quanto riguarda la parte difensiva e invece un saldo per quanto riguarda la fase offensiva. E lì toccherà a voi capire se effettivamente vale la pena andare ad investire magari, che ne so, il 4-5% su Chiesa perché sta andando a quel prezzo oppure il 15-16% sotto il 20% per Vlaovic se va a quel prezzo. Ovviamente considerate il discorso mercato e tutto. Ok? Facciamo fin da che resti nel periodo di oaste questa squadra, ipotizziamo. Ok? Quindi dovrete poi valutare e dire ma sai che c'è? Ci provo. Magari, che ne so, Allegri viene esonerato ok, viene esonerato a settembre-ottobre dopo che inizia a fare schifo e poi durante la stagione si riprende la squadra facendo più bonus. Ok? Però queste sono scommesse sono cose che dovete proprio sentirvi di cuore che un vantaleatore dice vabbè, ma sento, faccio questa scelta. Ok? Non sarà Carmi Special a dirvi di farla ma vi dirà Carmi Special vi dice che c'è questa possibilità cioè che c'è la possibilità di fare queste scommesse perché il costo potrebbe essere più basso. Parliamo invece di mercato velocemente sul mercato allora si parla chiaramente di eventuali gestioni sia di Vlaovic sia di Chiesa chiaramente stanno partendo i vari giocatori già Arthur è passato, credo, alla Fiorentina partiranno anche un po' di giocatori cambiasse forse al Bologna e vedremo se resteranno invece Rovella appunto questi giocatori che l'anno scorso erano alcuni in prestito ok? Rovella potrebbe alternarsi con Locatelli Fagioli sostituirà Pogba quando non ci sarà perché ci saranno le partite in cui non ci sarà e parliamo brevemente anche di questo aspetto cioè dell'integrità la Juventus è una delle squadre che tra i giocatori cartine o comunque principali ha un altro problema di integrità perché Chiesa ha un basso valore di integrità Vlaovic è un po' pure perché l'anno scorso ha avuto diversi problemi Pogba non ne parliamo ok? anche Danilo l'anno scorso è stato bene ma in passato aveva anche lui avuto qualche problema insomma parliamo e Milik se consideriamo che il vice Vlaovic è Milik che anche lui ha avuto in passato diversi problemi capite bene che la Juventus è un po' fragilina ok? quindi attenzione anche a questo aspetto dovete considerarlo quando andate a comprare queste scommesse chiaramente fantacalisticamente i giocatori più interessanti sono un po' i difensori Danilo, Bremer giocatori sia buoni per modificatori che anche per golletti perché Danilo ad esempio ne ha fatti credo 3 3 gol e 3 assist prestazioni da modificatore assolutamente buono per quell'aspetto anche Bremer un po' di golletti li ha fatti considera ad esempio 4 gol che non è assolutamente male e si è poi ripreso come fantamedia cioè come media voto quindi loro sono sicurezza una scommessina potrebbe essere Gatti che anche lui a golletti è messo bene però vedete non spuntano qui perché non li ha fatti in campionato ma li ha fatti in Europa quindi attenzione a questo aspetto perché anche lui è forte nelle palle inattive ok? poi sugli altri VA credo verrà listato centrocampista da Fanta Calcio se fate Fanta Calcio dove listerete difensore chiaramente più appetibile come centrocampista potrebbe avere il valore che aveva quadrato l'anno scorso semplicemente più giovane quindi potrebbe magari essere un po' più costante nelle prestazioni quello magari sì e magari anche portare qualche bonus in più quello ci potrebbe anche stare detto questo Rabiot attenzione al prezzo perché probabilmente non dico che sarà un esca ma è probabile perché 8 gol difficilmente magari li ripeterà potrebbe magari portarne qualcuno in meno e quindi se lo pagate veramente da top di reparto potreste scottarvi ok? quindi potreste effettivamente utilizzarlo magari come esca in molte aste Iling Junior è una scommessina intrigante Milik invece è un jolly che a me intriga molto perché secondo me anche per il gioco di Allegri forse ci sta di più lui che Vlaovic però poi vedremo anche come verrà utilizzato la coppia solo se appunto si abbassa il prezzo di entrambi ad oggi ma comunque come detto c'è il mercato di mezzo si parla di Lukaku addirittura quindi che potrebbe far fuori un po' entrambi sia Vlaovic che Milik chiaramente c'è un po' un discorso di incompatibilità passiamo alla Lazio scusate se mi dilungo ma cerco di essere abbastanza completo passiamo per quanto riguarda la Lazio Lazio che è orfana di Milingovic Savic ok? che non ha ancora sostituito si parla di un possibile arrivo di Ricci del Torino per rinforzare un po' il centrocampo e di qualche altro nome però secondo me non verrà sostituito proprio come importanza ok? parliamo brevemente di Sarri partiamo dall'allenatore giocatore allenatore che i fan allenatori amano per la coerenza della formazione cioè lui comunque non stravolge quasi mai la formazione usa sempre quelli li usa nello stesso modo difficilmente stravolge poi il tutto durante l'anno a meno che non si rende magari conto che qualche giocatore è completamente fuori forma ok? buono a livello offensivo a livello di bonus l'abbiamo visto in questi anni a livello difensivo vi avevo detto l'anno scorso che poteva essere una sorpresa la difesa della Lazio che si sarebbe solidificata così è stato anche se io non mi aspettavo così tanto però potrebbe forse essere questo il peggioramento che potrebbe avere la Lazio cioè subire magari qualche golletto in più quest'anno ok? comunque in ogni caso Provedel vale la pena lo stesso pagarlo un po' meno magari dei super top di difesa della porta diciamo però comunque un 7% ad esempio su Provedel ci sta ci sta tutto ok? parlo di Lega 10 soprattutto va bene? per quanto riguarda la difesa abbiamo i più interessanti forse possono essere i due centrali con modificatore se li pagate sotto il 3% intorno al 2% li andrei a prendere altrimenti lascio restare e andrei sui classici terzini per bonus ok? gli altri Marusic Lazzari giocatori un po' più discontinui ok? anche lo stesso Marusic che l'anno scorso non ha fatto malissimo vedete non ha preso tante insufficienze però parliamo di classici 6 nulla di stravolgente ok? non è il giocatore che ti esposta il modificatore però solitamente lo paghi pochissimo Marusic alle aste solitamente Zaccani e Anderson sono strettamente legati al ruolo che verranno gli stati come centrocampisti sono entrambi top di reparto perché parliamo di un Felipe Anderson che gioca a ridosso della punta che ha fatto 9 gol e che comunque viene molto sollecitato nel gioco di Sarri ok? guardate qui anche la hitmap svaria praticamente per tutto l'attacco Zaccani non ne parliamo anche lui molto molto presente nel gioco di Sarri ok? anche possibile rigorista spesso quando magari non li calcia immobile quindi insomma giocatore che partirà chiaramente con un prezzo altissimo sinceramente io oltre al 9% starei un po' attento ok? non strapegherei questi giocatori lo sapete io sono più per i semi top a centrocampo più che per i top Luis Alberto potrebbe prendersi le responsabilità della squadra e tornare cioè già l'anno scorso ha fatto un buon rendimento 6-93 è una buona fanta media con 6 gole 7 assist potrebbe riconfermare questi dati ok? anche perché magari non essendoci milingo avrà ancora più responsabilità in termini di assist di gol di giocate quindi di punizioni da battere quindi occhio a questo aspetto per i giocatori invece in banchina al momento c'è Pedro ma sta arrivando Castellanos giocatore molto interessante vedremo se immobile resterà perché si parla anche di un'eventuale cessione e dell'arrivo appunto di questo nuovo attaccante che a me piace molto ma qual è l'inghippo che ha le stesse caratteristiche di immobile praticamente le stesse è un po' più forse tecnico un po' più estroso di immobile però bravo comunque andare in profondità bravo anche nel gioco di prima quindi attenzione all'arrivo di Castellanos che al momento ancora non spunta forse inserito ok chiaramente perché tipo c'è stata una cosa con il visto quindi ancora non è proprio proprio ufficiale ma arriverà arriverà a fare in teoria il vice immobile ma attenzione che questo quindi potrebbe abbassare il valore di immobile qualora non dovesse partire immobile quindi potrebbe far infiatare un bel po' difficilmente credo giocheranno insieme ok perché hanno proprio le stesse stesse caratteristiche poi ad oggi mi sento di dirvi questo lasciate stare i vari basic cioè basic potrebbe giocare però andate su altro ragazzi ok o prendete Luis Alberto Felipe Nanteson Zaccagni della Lazio centrocampo lasciate stare al massimo a copertura tra gli ultimi slot un Cataldi ma lasciamo stare per il Fanta andiamo su altro per quanto riguarda il mercato come detto arriverà questa punta credo potrebbe arrivare qualcosa anche a centrocampo abbiamo detto di Ricci secondo me potrebbe arrivare qualcosa anche in difesa cioè secondo me non sarebbe male un rinforzo anche in difesa cioè secondo me le seconde linee della Lazio devono rinforzarsi anzi un'idea potrebbe essere anche prendere un'ala offensiva perché al momento appunto c'è Pedro che comunque il suo lo farà utilizzarlo come Jolly non sarebbe male tra gli ultimi slot del vostro attacco però non va cioè ha comunque una gestione pantalcistica complicatissima ok però secondo me un'ala vista cioè la carenza in rosa ci sarebbe ho visto un po' anche far bene qualche giocatorino nelle diciamo nell'amichevole ma io non mi fido più delle amichevoli della Lazio ok passiamo a Lecce però mi sono appena ricordato di una cosa che vi volevo dire sulla Juventus e sul discorso calciomercato perché ho letto di notizie ad esempio di Chessi che potrebbe arrivare per rinforzare appunto il centrocampo e poi ho letto una sfilza di cavolate ragazzi ma di articoli fatti da gente della quale non mi fiderei mai e quindi io vi dico state attenti alla marea di cavolate che si leggono in questo periodo attenzione perché ho letto robe sempre legate a Lukaku sempre legate ad altri giocatori ma cavolate 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 e non mi fido di tutti determinati articoli quindi state attenti al calciomercato non vi fidate troppo ok prendete le ufficialità ok passiamo a Lecce per quanto riguarda il Lecce allora il problema è il cambio allenatore D'Aversa arriva D'Aversa che aveva fatto benino al Parma un po' maluccio se non ricordo male alla Sampdoria forse un anno aveva fatto discretamente poi male però la cosa positiva è il modulo non dovrebbe cambiare dovrebbe mantenere il 4-3-3 il problema è che dovrebbe rinforzare un po' la squadra il Lecce perché non c'è un TT in difesa adesso è arrivato anche come si chiama il nuovo difensore fatemi ricordare dove 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 vediamo se lo trovo non è ancora forse in lista forse deve essere ufficializzato comunque ci sono un po' di difensori che sta provando a comprare il Lecce vedremo quali giocheranno ha comprato Venuti per come terzino destro ma a me Venuti fa cagare ve lo dico poi magari farà una gran stagione e Strefezza chiaramente ancora il leader lo sarà anche per questa stagione è arrivato Alquist vedremo se verrà listato attaccante probabilmente però ha un ruolo simile a quello di Strefezza quindi voglio capire se verrà utilizzato poi sull'altra fascia alternandosi con Di Francesco oppure per fargli fiatare Strefezza sono curioso di vedere se il Lecce prenderà anche una punta perché al momento ha Sissè e dovrebbe essere lui il titolare però secondo me serve anche un ripiego l'anno scorso c'era ad esempio appunto Colombo per il centrocampo Yulmand va bene anche se ha molte richieste dal mercato è arrivato Rafia che mi fa pensare possa essere in realtà il sostituto di Yulmand qualora dovesse partire ok se invece dovesse restare Yulmand secondo me entrambi potrebbero giocare Rafia è un giocatore che a me piace perché è bravissimo nei lanci dalla tre quarti anche dal centrocampo quindi lanci in profondità sia con in realtà sempre col destro perché quando devo usare il sinistro a volte usa piuttosto tipo d'esterno ok però è un giocatore secondo me niente niente male quindi potrebbe effettivamente ritagliarsi un posto da titolare male ha fatto benino nell'amichevole l'anno scorso ha fatto cagare vi faccio vedere i dati di male l'anno scorso è stato veramente insipido però magari il nuovo allenatore gli da fiducia lo rimigorisce Blen e Gonzales sono i candidati eventualmente a contendersi un posto per il centrocampo ad oggi mentre per la difesa Romagnoli potrebbe ritagliarsi il posto accanto eventualmente a Baschirotto ok Gallo potrebbe confermare il posto magari a volte a sinistra talvolta anche a destra ok questa era un'analisi per oggi ditemi la vostra su questi giocatori per quanto riguarda il mercato del Lecce stavo dimenticando c'è il discorso Falcone il portiere deve essere chiaramente comprato perché al momento il Lecce è messo male il senso Breve e Brancolini secondo me proveranno a riprendere Falcone o altrimenti a prendere qualcos'altro poi come detto un'eventuale punta potrebbe arrivare qualcosa o in difesa a rinforzare appunto il reparto difensivo anche se appunto è arrivato il nuovo giocatore non mi ricordo il nome con la S è un nuovo estradissimo ve lo ricorderò magari nelle prossime dirette va bene detto questo voglio sapere la vostra su queste quattro squadre ok e quindi nei commenti ditemi quali giocatori tra Inter Juventus Lazio e Lecce vi siete appuntati nel vostro taccuino ok e li state osservando in questo precambionato anche perché a proposito di sbilanciarsi eccetera le decisioni non le dobbiamo prendere ora non è che dobbiamo decidere ora se un giocatore è da prendere o non è da prendere ora li andremo a osservare andremo a osservare il precambionato ci stiamo preparando non è che l'asta ce l'abbiamo oggi non ce l'abbiamo domani quindi faremo questo percorso insieme tranquilli passo per passo con la manina vi accompagno all'asta del Fandacalcio detto ciò io vi auguro una buona preparazione ci vediamo stasera oggi è venerdì stasera 20.30 in live come sempre un abbraccio da Carmi ciao ciao